Hola a tutti ragazzi sono Yuki e oggi sono qui in questo nuovo video ad illustrarvi il progetto live Che progetto ragazzi? Praticamente come avete visto qualche mesetto fa ho avuto l'occasione di poter fare delle live Come le ho fatte? Voi sapete che la fibra ottica qui non ci arriva ma ho avuto un metodo molto semplice Ossia la connessione del telefono Ho cambiato portabilità, adesso ho Home Mobile per chi la conosce, quello che offre un miliardo di giga eccetera eccetera E quindi ragazzi ho deciso che verso fine mese, quindi l'ultima settimana del mese A seconda di quanti giga mi rimangono li utilizzerò per fare delle live Quindi ragazzi io voglio massimo supporto per questo nuovo format se così possiamo definire Per il momento sarà soltanto diciamo a fine mese, poi vediamo se riusciamo a implementare qualche altro modo per farne di più Ragazzi come voi ben sapete quest'anno è un anno impegnativo, c'è la maturità, ci sono tante cose Però voglio comunque continuare su YouTube perché qualcuno ancora si guarda i video stranamente, quelli che faccio Quindi vi chiedo massimo supporto e davvero di lasciare tanti pollici in su per questa notiziona Come avete visto il microfono è arrivato quindi piano piano lo comincio a settare un pochettino meglio Si cominciano a fare più video, si cominciano a fare più cose particolari, più video di Minecraft E anche altri format che arriveranno mano a mano con la ripresa del canale Detto questo ragazzi io vi invito a lasciare un bel like proprio per la notizione delle live Volevo informarvi appunto che saranno a fine mese in base anche ai giga che mi rimangono Perché comunque per una live di 3 ore con insomma i 6 giga quindi più o meno in media Possiamo fare 5-6 live con una trentina di giga A parte la matematica ragazzi vi auguro davvero una buona giornata Lasciate un like, commentate il video, condividetelo soprattutto per dire Wewey Luke è tornato, iscrivetevi al canale, ci becchiamo alla prossima E ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti